Amici, buongiorno! Buongiorno, buonasera, non lo so quando lo vedrete questo video Qua è giorno Comunque, come state? Allora, dato che in questo periodo non sto facendo tantissimi video per colpa un poco dello studio e degli impegni Approfitto di questa uscita perché così ci stiamo un pochino insieme Faccio un piccolo vlog Sono contondo subito qui, vedete la sua orecchia? No, non si vede l'orecchia, vabbè E qua vedrete? Lui si scansa, cioè manco l'orecchio vuole far vedere Cioè proprio... Allora, qua vedete delle prove assurde perché ho comprato diverse cose stamattina Adesso volevamo fare un giro all'Atlet perché è il primo giro che facciamo io essendo subito con i saldi Però poi volevamo andare anche alla Lidl perché in particolare sono uscite delle offertine su cose sportive Ci stava sul sito della Lidl un catalogo enorme con tutte cose sportive Quindi io vi avverto nel caso non lo sapeste E ci sono anche pure attrezzi se non erro Quindi non so quando le mettono, nel senso non credo le metteranno tutte insieme Però io ve lo dico e volevamo andare a vedere Quindi magari vi faccio anche un pezzettino di vlog e vi faccio vedere che cosa ci sta qua Per vedere che cosa hanno messo Io non so se metteranno tutto il catalogo insieme, non credo Però a chi dovesse interessare, chi va in palestra, chi va a correre Così ci sono anche le scarpe, ci sta un sacco di roba, ho visto sul sito E vogliamo andare a vedere un pochettino anche se oggi è sabato Però insomma daremo un'occhiata Adesso ce ne andiamo a fare un giretto La smetto di parlare perché è già un rutto Rutto Se già mi sono innamorata La pandorina è 35 euro Allora sì vabbè avete visto siamo andati un attimo all'outlet Ma non abbiamo trovato niente perché i prezzi sono abbastanza alti Poi le cose belle erano finite E la borsa pandorina è rimasta là Perché era molto carina Però era forse anche grande pure per me Quindi il che è tutto dire Però era gigante A me piacciono con... Ah vabbè giustamente dice santo subito Non volevi spendere soldi No ma io in realtà dato che stanno scendo Anche offerte su ghiattoletto online Voglio valutare bene perché comunque 35 euro Messe su una borsa che magari non userei sempre Le vado a mettere su una borsa che metto tutti i giorni Perché tipo quelle moschino che comprai Io le ho sfondate Cioè veramente A me piacciono quelle con le catene lunghe Quindi cioè Un'altra volta l'ambulanza Ma che è oggi? C'è l'ospedale Ah c'è giustamente c'è l'ospedale qua vicino Deligente Andiamo alla Lidl ragazzi che è meglio Voglio gli hamburger di soia rifatemeli Il signore della Lidl solo per me Per favore Erano buonissimi Vediamo un po' che c'hanno di offertine Le palle di Natale ti servono? Le lucine di Natale Guarda che sfizio Il mixer Ah ottimo sto cosino che stirà Vabbè ma ce l'ho Questo è buono vediamo Che le scarpe Eh costava parecchio 20 euro a scarpe Eh ma ma quante ce ne entrano? Cioè a me ne servirebbero due Quante scarpe ti? Quante scarpe ti? Queste sono quelle domande che non dovresti mai fare Ah hai capito amore Ferro da stile Quello che stirà forse pure verticale Ah sì Che sfizio Eh no ma non mi serve Questo che è? No questo è quello normale Io non ho trovato più Il coso per i waffle Ma ci sono tutte le cose sportive Pure la fascia Vedete? Per fare gli esercizi Questa Quale erano quella che cerco io? Quale erano quella che cerco io? Eh eh Sì secondo me vanno bene Però quando posso? Quando sai? Quando posso? 5 euro E prendiamo Ma che troppo Ah ci sono le fasce Quelle mediche Io poi con i ciocci Ah i pantaloni Andano le solo corti ci stanno Ah no stanno pure lunghe Questa è una macchina per cucire No perché non so cucire Allora andiamo a vedere se ci stanno i burro caccai Il burro caccao ragazzi Il burro caccao No vabbè Ma io proprio non ce la faccio Le sinapsi proprio Ah questo cosa li vediamo No No non era questo Era quello qua la palla Ah questi sono No questo che è No comunque ragazzi stanno le cose per fare sport Stanno pure i reggi semisportivi Questa è un'altra palla Questa è una corda Una corda Attrezzo sportivo Tutte 9 e 99 Sto è scritto attrezzo sportivo in generale 9 e 99 Ma scarpe sono carine però eh Cosa sono queste Le fasce Le fasce Ah le fasce per Quanto stanno queste 5 e 99 Se vi dovessero indrezzare ragazzi le fasce per fare ginnastica Io la dovrei mettere tipo questa qua per Per evitare di mangiare Me la metto intorno al collo Stringo E funzionano molto molto meglio Giusto Così non scende il cibo Ah no ragazzi Ci stanno ancora le piastre Perciò vi dicevo Si trovano ancora queste cose Perché le hanno portate talmente tante Di piastre e cose del genere Vedremo ne hanno fatto pure Questo tipo qua Questa però quanto costa? 20 euro forse 12 euro Andiamo verso la Siena Sì Vedete la mia faccia sconsolata? E non vediamo sconsolata Comunque non ho trovato niente Cioè dell'ultima linea di shampoo Che fecerò insomma La crema quella nuova Che è buonissima tra l'altro Perché la sto usando E volevo il burro cacao In particolare Perché costava pochissimo E mi stanno dicendo tutti Che è buono Niente ragazzi Si sono finiti Devo vedere Forse magari Nella mia città Però Temo che difficilmente le troverò Vabbè Viaggiatta a vuoto Ci siamo solo fatti un po' compagnia Niente Ragazzi vi saluto Non l'ho trovato Anche Santo sta piangendo Santo Super Si sente proprio Sta morendo dentro Non se ne fotte Infatti Ragazzi Ragazzi Vi mando un bacione Spero che almeno Vi abbia fatto compagnia A sto giretto insieme E Mi raccomando Sempre un po' di silenzio Se il video vi è piaciuto Io vado ancora girando Con questi cosi Ma poi ve li farò vedere E ci sentiamo Ci sentiamo Ci vediamo presto Non è che vi chiamo E Vabbè Ciao